musica 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 oh guys salve a tutti sono spigiocchi e benvenuti in slapman rilasciando a left click si spara sui denti del mancapitato e lo schiaffo che abbiamo caricato con tanta potenza kaboom aspettate aspettate come si fa yes oh no aspettate devo battere snooze oh stupida sveglia rimpiaggerai di essere stata comprata ah sono tipo così di mio sono strambo di mio sono un nanetto ok possiamo schiaffeggiare questo bel giornale ti merito nient'altro che schiaffi è stato un giornale cattivo molto cattivo ok oddio ho appena conficcato quella lampada nel muro vediamo vediamo se riesco a fare a far fare il rottino a questa sedia porta apriti te lo comanda l'uomo degli schiaffi oh yes slapman inizia ok ok siamo un ristorante a quanto pare stiamo facendo degli hamburger e schiaffeggiamo un po' e gli hamburger perché dobbiamo fare degli hamburger molto cattivi molto cattivi come ci hanno insegnato gli spartani ketchup e hamburger ok ok vediamo se riusciamo a raggiungere i clienti oh 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 scusi signora non mi piacciono i suoi capelli fanno schifo i suoi capelli oh è così offesa dalle mie schiaffi la smetta di piangere signora la smetta su ok vediamo se quest'altro signore invece è contento oh ok dobbiamo oh suoniamo il campanellino yeah give me money ok ok ah cristo mi sono caduti i money oh cosa vuole signor francese vuole la mia baguette per casa è qui per me ne avrei basta indecente scraganzato ok ok dove siamo in ghost che stiamo facendo un vaso a forma di penne cos'è quel cosa cosa state facendo sono io il modello più bello guardate me guardate me aspettate questa espressione non è abbastanza artistica serve cambiarla ok ok perfetto l'espressione perfetta gente questa è vera arte ora proviamo a schiaffeggiare il nostro vaso i wanna be a vaso oh mio dio siamo dei geni dello schiaffo guardate che talento è meraviglioso aspetta amico ti aiuto io lo so che sei brocco in queste cose tieni oh sorry non in faccia volevo aiutarti col vaso ok vediamo che espressione c'hai è un po' contrita non importa se vuoi ti posso consigliare un buon lassatevo signora ok si è messa a piangere quest'altra signora dai cosa avete stanno accarezzando la fascia tu hai fatto una palla what the fuck ti sentirai un po' offeso riguardo al suo peso vediamo se riusciamo a schiaffeggiare ancora il nostro modello e renderlo ancora più figo oh oh ma grazie signor francese sta omaggiando la mia tecnica ma grazie le da un buffetto oh cosa bisogna disabilitare questa cosa ok 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 è arrivato l'uomo degli schiaffi ce l'ho fatta ok ok a quanto pare abbiamo spaccato uno spe... slapman sarà continuato non lo so la prossima volta schiaffeggiamo con retro non abbiamo neanche provato a schiaffeggiare la gente con le nocchie ma che cacchio di vita abbiamo condotto fino adesso ma che senso ha vivere senza schiaffeggiare la gente con le nocchie non c'è storia non c'è storia no qua si ricomincia qua si fa le cose per bene o si fa le cose per bene o non le si fa proprio ok adesso si ricomincia e si schiaffeggia tutti con le nocchie bam eccoci tornati tanti schiaffi sulle nocchie bam up circa ok let's go slapman con la mano al contrario la camera ok ok questa volta con le nocchie sarà molto più semplice apriamo la cassa stupida cassa forse dobbiamo fare il contrario dannazione questo gioco non permette di schiaffeggiare con le nocchie oh yes give me the money oh i money non la tua fa i money non la faccio oh eh ma money sono partiti i money oh salve ancora lei vuoi uno schiaffo con le nocchie accontentato yes ha ha su 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 col morale sulle mani gente eh sulle mani tutti quanti che sono masochista me li tiro da solo gli schiaffi quanto pare da basta dare piccoli schiaffetti e la gente apprezza vediamo dobbiamo dare piccoli schiaffetti oh mio dio sono super efficaci ho deciso come passare tutto il resto della mia giornata penso ok gente questo era un gioco bagato con i muri staccati questo era slapman spero vi sia piaciuto era un altro random ending che abbiamo proposto è qualcosa di assurdo non ha il minimo senso stiamo facendo carriera come delle non lo so delle persone che tirano schiaffi abbiamo fatto già carriera ci hanno anche invitato a disabilitare una bomba a disattivare a disinnescarla espi scusate non conosci i termini tecnici perché è ignorante quindi al prossimo prendo me ciao ciao se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi ricorda di iscriverti al canale mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine facebook e google plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta detto questo al prossimo video ciao ciao